Piloni veste la tua casa di nuova luce con i suoi tendaggi studiati da personale specializzato per soddisfare ogni tua esigenza. Per le spose d'autunno sono disponibili a prezzi scontatissimi chiumoni, trapunte, lenzuola, tappeti, reti e materassi. Per tutti offerta eccezionale di famosi materassi antistress e ortopedici a metà prezzo. Grazie per la visione!